Nuovo appuntamento con l'informazione targata Star Casino Sport, tra calcio mercato e situazioni legate invece alle tournée delle varie squadre, partendo proprio dalla Juventus che alle due di notte affronterà il Barcellona, ma c'è la Tegola Paul Pogba. Per i bianconeri si ferma infatti Pogba costretto all'operazione al menisco e circa due mesi il recupero, la riabilitazione per rivederlo in campo. La Juventus comunque non tralascia quelle che sono le strategie di mercato in questo momento e prosegue affrontando il Barcellona proprio in quella che è la tournée americana. A proposito di mercato invece, i fari puntati sono sull'Inter, visto che si accorcia un po' l'orizzonte temporale, visto l'inizio del campionato con Simone Inzaichi che ha delle esigenze importanti, come quella di sistemare la difesa con Skriniar o senza Skriniar, pensando anche a ulteriori rinforzi e pensando poi a sfoltire l'organico dal punto di vista dell'attacco in partenza a Pinamonti, ma non solo, è un organico extra large, quello con cui lavora Simone Inzaichi, che va sistemato anche con le operazioni in uscita. Operazione in entrata invece per il Milan, che prosegue in quello che è il carnet delle amichevoli estive, affronterà il Fosberger e poi sarà il turno dell'Olimpica Marsiglia fino a chiudere con il Vicenza. Nel frattempo sono, come sempre e in questi ultimi tempi, le ore decisive per De Ketela per raggiungere anche e portare a compimento una delle operazioni, l'alternativa Ziyech per quanto riguarda il Milan, con Pioli che vuole subito avere a disposizione i giocatori pronti per il suo organico, per rinforzare la squadra campione d'Italia. La Roma invece che si coccola, Paolo Di Bala, presentazione in grande stile oggi per quanto riguarda Di Bala, in attesa poi di definire altre operazioni relative al mercato, come quella di Wijnaldum, che diventa un obiettivo concreto per il centrocampo dei giallorossi. Nel frattempo è la giornata di Paolo Di Bala oggi, indosserà la maglia numero 21, maglia numero 21 che è già andata a Ruba praticamente con la Roma, che va a creare un progetto attorno proprio alla Oja, dopo la parentesi con la Juventus, è pronto a ripartire e lo fa con la formazione di José Murigno. In chiusura anche il Napoli, perché sono ore frenetiche per il Napoli, che lavora in Abruzzo, in quella di Castel di Sangro, ma ci sono due giocatori in arrivo. Uno è Kim, che andrà a sistemare il reparto difensivo e di fatto il coreano sarà il successore di Coulibaly, nel pacchetto arretrato, e l'altro è Simeone nel reparto d'attacco per il Napoli. Quindi vuole pezzi pronti, Luciano Spalletti senza temporeggiare troppo, mandando a chiudere quello che è il mercato in entrata con Kim e con Simeone per andare a creare un Napoli sempre più forte, anche con la concorrenza molto agguerrita per la prossima stagione. E con il mercato degli azzurri siamo in chiusura di questo angolo informativo con il calciomercato targato Star Casino Sport. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori